E mantenere il livello di efficienza, di qualità, gli standard che questi ospedali sono in grado di offrire credo che sia fondamentale. Sono qui per questo, sono qui perché Paola Pelino non è soltanto un'amica ma è una collega che apprezzo, che stimo, fortemente impegnata sul territorio, fortemente impegnata nel recepire e nel raccogliere le istanze che provengono dal territorio e credo che la sua battaglia a favore di questo ospedale, a favore del mantenimento del punto nascita sia una battaglia sacrosanta, che va sostenuta e va incoraggiata. Oggi sono qui per questo e credo che il mantenimento del punto nascita sia di fondamentale importanza. Sappiamo che c'è un decreto del nuovo Presidente della Regione, Presidente da due anni, che va nella direzione della chiusura di questo punto nascita. Sappiamo che anche il Ministro Lorenzin, aperto alla possibilità di derogare ai principi che ispirano questo decreto, noi ci appelliamo al Presidente della Regione affinché ascolti le istanze che provengono dal territorio, che sono istanze di ragionevolezza e di buon senso perché Sulmona è il cuore dell'Abruzzo e serve comuni che si trovano in una situazione di disagio territoriale a livello geografico e ci sono buone ragioni, ottime ragioni per il mantenimento di questo punto nascita perché appunto si trova in una situazione, in una regione che serve comunità che sono poi difficili da raggiungere soprattutto nel periodo invernale. Insomma, queste ragioni ci spingono a combattere. Grazie, grazie.